Siamo giunti da tutto il mondo, gli innocenti, gli arroganti, i coraggiosi. Vedevamo nella guerra il nostro rito di passaggio, una grande avventura che avrebbe reso tutti noi uguali davanti alla gloria. Ma la guerra è paura, non avventura. E l'unico... E l'unico... E l'unico... Fredrik Bishop? Oddio. Ehi, siete voi, Fredrik Bishop? No. Mi spiace, è morto. Ma questa non è la vostra foto. Così sembra. Jack Foster. Sono il vostro nuovo allievo. No, non credo. Levami questo moccioso di turno. Certo che no. Ha fatto tutta questa strada solo per vederle. Fredrik Bishop, l'orgoglio dell'Australia. Ha persino mentito sull'età per poter essere arruolato. Conosci il mozzo? Sì. Ok. Seguimi. Che disastro. La prima ondata non ha avuto scampo. Guarda che difese. Come faremo a prendere la spiaggia? Questa volta abbiamo le corazzate. Tappati le orecchie, sarà piuttosto rumoroso. Chiari, Tops! Chiari, Lai, Lai! Invia le coordinate. E' ora di muoversi. Ehi, ehi, dove credi di andare? Insieme a voi. Prepara il fucile. Sì, va bene. Stare qui. Andrai al comando delle retroguardie dopo che sparerò il Bengala. Sì, signore? Sì, signore. E non finire nei guai. Devo arrivare in cima alla spiaggia. No, che copre! Non so che a sinistro, non so che sista. Voi! 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 No, no, no! 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 No, no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! 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 No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no I need backup! Stone the cloud! Presto, potevi ammazzarmi. Ma non l'ho fatto! No, non l'hai fatto. Un bel colpo. Beh, veramente, io l'ho visto là e, insomma, io... Ci sono file in ritirata ovunque. Quello che temevo. Bishop, avverti la retroguardia che ci muoviamo. Non vi preoccupate, me la caverò da solo. Tieni l'arma in pugno. No zone scoperte. Capito? Capito. Devo tornare al comando della retroguardia. Ma dove sono tutti? D'amtuo anche per te? Non, non. Per chi non fosse stato informato da un messaggero, la posizione alleata è persa. L'artiglieria coprirà la ritirata fino alla spiaggia, colpendo il villaggio e i forti circostanti. Merda! Foster! Fottuti inglesi. Colpiscono la loro posizione per coprire la ritirata. Accidenti! Fai già l'artiglieria? Dannazio! Fai già l'artiglieria! Fai già l'artiglieria! Fai già l'artiglieria! Wighton, notizie dalle retrovie. Fai già l'artiglieria! Fai già l'artiglieria! Fai già l'artiglieria!